20 milioni di euro, 20 miliardi di euro, se puoi recuperarsi l'evoluzione, basta 20 miliardi di euro, 20 miliardi di euro, puoi recuperare tagliando davvero il suo lavoro. E quando parlo di politica, parlo di politica, non siamo così scegli da non sapere che i diputati non fanno 10 miliardi di euro anche se l'evoluzione, 20 miliardi di euro, ma ci sono membri, con chi non sta sia, se facendo diare il suo lavoro l'anno, risponderà qualcuno